il parco a quello di Patrice Lefebvre vediamo il carico in vista della Continental Cup attenzione al contropiede del Valpellice che va in gol attenzione quando siamo al nono minuto è contropiede deciso e stavolta nulla da fare Asiago che tiene il possesso nel proprio terzo offensivo Marchetti il pacca deviato e poi il disco che incredibilmente non entra Marchetti altra conclusione pacca il gol arriva il pareggio dell'Asiago attenzione a quest'altra parte Sullivan e tira il gol dell'Asiago 2-1 quando siamo giunti al sesto minuto il vantaggio dei campioni di Sullivan prova a farti vedere sulla destra ha servito Sullivan il tiro e il gol 5.47 al termine di questa seconda frazione Sullivan il siluro sul quale Armand Pilon può solo guardare di Sullivan mette al centro è un passaggio volante non facile da trasformare in gol a testaria il gol attenzione a Nigro mette al centro il pacca che finisce in rete pocherissimo Asiago 5-1 all'Odegar